Assessore, per gli impianti sportivi si sta scatenando comunque una bufera, anche la Commissione Consigliare Sport ha dichiarato che non ci sono interventi efficaci, che non si programma nulla. Comunque, lei pensa che è un accanimento perché comunque la situazione è così da anni o che qualcosa stia accadendo? Sicuramente qualcosa sta accadendo, ma non so se abbia relazione con gli impianti sportivi, a essere sincera. Perché proprio giorno 30 io sono stata convocata dalla Quinta Commissione e come sempre quando vengo convocata da tutte le commissioni ovviamente mi sono presentata, ho dato tutte quante le risposte in mio possesso per quanto attiene non soltanto alle nostre responsabilità che riguardano più che altro la gestione, ma ho potuto rispondere perché seguiamo ormai giornalmente quello che avviene rispetto al bando, un bando che è partito già da qualche mese e che riguarda fondi del 2015 e che riguarda proprio l'impiantistica sportiva. La programmazione c'è stata e tutti quanti gli interventi sono stati programmati con l'ufficio tecnico e non soltanto con l'assessore Falci, ma soprattutto con l'ingegnere Tomasella che poi ha la diretta responsabilità anche di costruire bandi, e i bandi sono stati pensati proprio per il tipo di interventi che avevamo programmato e che riguardano prioritariamente le agibilità, agibilità tecnica strutturali per esempio per quanto riguarda il Tomaselli e agibilità di tipo igienico-sanitario per quanto riguarda il Palmintelli, ma non solo, appunto elementi come quelli del Palacannizzaro che sono così da anni, non da ora, e che su cui non si è mai intervenuto, li abbiamo programmati, il ritardo è dovuto semplicemente al bando di manutenzione dell'impiantistica sportiva, ma non è mancata la programmazione e ci dispiace ovviamente che tutto questo abbia dei tempi tecnico-amministrativi di cui sicuramente l'ufficio Sport e l'assessore allo Sport non è responsabile, credo che non ci sia neanche una responsabilità da parte dell'altro ufficio, cioè da parte dell'ufficio tecnico, perché si è mosso per quelle che sono le norme di legge, dopodiché le risposte sostanzialmente a tutto quello che è stato evidenziato in questa lettera pubblica sono già contenute agli atti del verbale della Quinta Commissione, per cui basta leggere quel verbale per accorgersi che l'attenzione ovviamente c'è, sarebbe un controsenso politico prima ancora che tecnico, non interessarsi della propria delega, di una delega che tra l'altro ha un elemento di visibilità molto forte perché c'è un impatto sociale rispetto allo sport che è visibile, come abbiamo detto poco fa, dalle scuole sino a chi invece pratica lo sport in maniera non dilettantistica ma anche professionale, però ripeto molti degli elementi che sono stati sottolineati riguardano uno status degli impianti che è ormai abbastanza datato, sul fatto che, e l'ho detto in Quinta Commissione e lo ripeto ora anche pubblicamente, sul fatto che la città abbia un numero, una quantità di impianti eccessiva, che oggi con i bilanci assolutamente asfittici è difficile da gestire, questo è un dato di fatto e ho chiesto addirittura alla Quinta Commissione se, secondo gli amici consiglieri della maggioranza e della minoranza, loro avessero delle proposte in merito eventualmente a delle attenzioni che dovrebbero essere riservate più ad un impianto piuttosto che ad un altro, perché è chiaro che alla fine non si potrà reggere tutto neanche con le esternalizzazioni, perché ricordo che le esternalizzazioni in ogni caso sia che si vada a un bando di gestione a pubblica evidenza, sia che si facciano degli affidamenti può riguardare la manutenzione ordinaria, certo non la manutenzione straordinaria per cui la manutenzione straordinaria che resta in carico all'ente proprietario, cioè all'amministrazione comunale di Caltanissetta dovrà fare sempre i conti con le difficoltà di risposta a tutto questo genere di difficoltà e problematicità che presentano le diverse strutture sportive. Rispetto a questo io non ho avuto sinceramente delle risposte, se non a quella di accelerare e io sono d'accordo, gli affidamenti, ma anche gli affidamenti devono rispondere a delle precise regole procedurali che riguardano dei bandi, almeno delle manifestazioni di interesse per capire chi può essere interessato possono essere ovviamente società, ma anche federazioni o addirittura anche privati per cui l'attenzione c'è, noi abbiamo una chiarezza rispetto a ciò che vogliamo fare da cosa si evince? Dal fatto che è stato richiesto a fondo perduto un bando per il manto sintetico a Pian del Lago 1 cioè a Tomaselli. Questo cosa vuol dire, tradotto dal punto di vista politico? Vuol dire che la città anni fa ha investito su un progetto di cittadella sportiva a Pian del Lago su quello dobbiamo puntare, fermo restando il fatto che il Palminnelli potrà restare o non restare poi dipenderà dal PRG che comunque prevede altro, ma potrà restare per allenamenti, potrà restare per giovanili certamente anche dal punto di vista della sicurezza più in avanti, e ce lo auguriamo, vandranno le nostre squadre e meno sarà possibile ricorrere ad un impianto che presenta notevoli criticità questo addetta non dell'amministrazione comunale, ma addetta della Questura e della Prefettura